Verissimo, Giuca Scassella rivela il vincitore dell'isola. Ospite di Silvia Toffanin, Giuca Scassella ha scritto il vincitore dell'isola dei famosi 2018 in una busta, che è stata sigillata, e che verrà aperta solo a reality concluso, quando Verissimo dedicherà un'intera puntata al programma condotto da Alessia Marcuzzi. Credere a tutto ciò, ovviamente, equivale al credere all'epocale panzana delle mani intrecciate. Grazie per la visione!